buonasera benvenuti da casa sanremo l'ospitality del festival ma soprattutto benvenuti alle edizioni nazionali diretti di casting ufficiale questa sera si esibiranno qui cantanti provenienti da tutta la penisola italiana e soltanto 12 di loro approderanno alla finalissima nazionale sanremo new talent edizione winter 2022 proprio qui a casa sanremo tante di sanremo new talent è il nostro maestro vince tempera al quale direi un bellissimo applauso diciamo che è uno storico e celebre maestro d'orchestra quindi tante presentazioni non ne ha bisogno non ne ha bisogno di tante presentazioni ma anche lei al pari del maestro vince tempera insomma ha fatto collezione di telegatti vincitrice di pechino express è una delle più note concorrenti amatissima dei più famosi reality showgirl e presentatrice conduttrice maria teresa ruta e non poteva mancare il titolo della rusa production roberto zapp produttore artistico discografico e colonna portante del nostro team buonasera roberto benvenuto è un volto nuovo per quanto riguarda la giuria di sanremo new talent lo accogliamo in maniera simpatica e siamo molto contenti per la sua presenza visto che accresce la professionalità del nostro contest è oggi il presidente della phonoplay records strumentista per le prestigiose orchestre musicista editore direttore artistico per svariati volti celebri in passato è stato anche responsabile unico della produzione musicale presso mediaset è paolo paltrinieri buonasera serils buonasera categoria junior ti presenti con quale brano la felicità di simona molinari prego serils ho fatto errori che ripensandoci non farei ma questo mondo di melo tu chi non sbaglia mai tutta colpa di colpa di colpa di gelosia io quella notte no non dovevo andare via ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po' ero sicura che non mi avresti indetto di no io ti volevo in una vita che non era tua io dicevo ti amo e tu mi dicevi una bogea alla felicità alla felicità alla felicità alla felicità alla felicità alla felicità non ricordo più che sapore alla felicità parto in vacanza tutta l'estate senza di te il sole splende il sole splende mi guarda e ride ride di me quello che voglio non lo so neanch'io poi che cos'è di fatto sono sola qui sono qui senza di te la felicità alla felicità alla felicità alla felicità alla felicità alla felicità non ricordo più che sapore ha la felicità Io la mattina già mi sveglio stanca A porta da una sorta di indolenza Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto E la mattina sono già a lutto E senza te non sono più la stessa Vuoi tornare dietro, amore, aspetta Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa Amore, io per te farei di tutto Ah, la felicità Oh, la felicità Ah, la felicità Non ricordo più che sapore ha La felicità Perché senza te non so più cos'è E la felicità Non ricordo più che sapore ha La felicità Grazie Complimenti, Serils Vieni Il mio piatto è il vestito Ha diventato molto bene Serimo Serimo Vai Serils è il suo nome d'arte Ma all'anagrafe come sei iscritta Serena Ciabatti Serena, allora Serena Vieni da Arezzo Arezzo Quindi sei aretina Toscana E sei approdata qui a Sanremo Con quale aspettativa Con quale speranza Ma la mia speranza sarebbe Quella di vincere Di arrivare in finale Vedremo poi in futuro È giusto Bisogna sempre puntare in altro Invece Oltre a Sanremo New Talent Nella vita Cosa vuoi fare Cosa vuoi diventare Allora Nella vita Ho un gran sogno nel cassetto Che è quello di diventare Una cantante famosa Se purtroppo Non riuscirò a realizzarlo Il piano B Sarà di diventare Un chirurgo Un chirurgo Studierai Chirurgo specializzato in qualcosa No Chirurgo in generale Chirurgo Basta che ci dai una mano Quando uno si ammala Giustamente Un giudizio sull'organizzazione Del contest Molto bella Mi è piaciuto tanto Siamo stati bravi? Molto Speriamo che lo dici anche Se magari uno Non va avanti No però Rimaniamo sempre bravi? Sì Meno male Grazie Tutto registrato Tutto registrato Su queste belle parole Io ti auguro il meglio E ti faccio il mio In bocca al lupo Crepi il lupo Ehi tu Dico a te Sei un cantante Interprete O un cantautore Di qualsiasi età? Sei pronta a salire Sul palco di Sanremo New Talent A Sanremo? Ti stiamo cercando Audizione online Gratuita e immediata La prossima star Potresti essere tu www.SanremoNewTalent.com Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.